È successo tutto poco dopo le nove. Un'autocisterna che trasportava siero di latte si è ribaltata in mezzo alla strada bloccandola completamente sia verso Cremona che verso Casal Maggiore. È avvenuto tra quattro strade e forcello nella zona di Stagno Lombardo. Il conducente, un 37enne che era diretto a Pieve Dolmi, che avrebbe perso il controllo del mezzo, ne sarebbe uscito il leso anche se sarebbe comunque stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco perché il camion stava perdendo carburante all'esterno, quindi è stato necessario mettere in sicurezza la zona. Ripercussioni inevitabili sulla viabilità in quanto la strada bloccata non era percorribile. Della gestione della viabilità si sono fatti carico polizia locale e carabinieri che hanno deviato il traffico sulle strade limitrofe fino alla rimozione del mezzo pesante. Sempre alle forze dell'ordine sono stati affidati i rilievi del caso per cercare di stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto.